Dimissioni da parte del Comitato delle Borgate quando manca meno di un anno alla centesima edizione del Palio del Golfo. I malumori c'erano già da tempo con il Comitato che non ha percepito l'appoggio e il sostegno desiderato da parte delle Borgate e degli enti delle istituzioni in questi ultimi e difficili mesi. Le dimissioni sono state rassegnate ieri, irrevocabili e con effetto immediato ed è con una lettera inviata alle 13 Borgate che il Consiglio Direttivo ne ha dato l'annuncio. Sarà nostra cura provvedere alla chiusura dei conti del Palio 2024 e del bilancio corrente, si legge nella lettera, ma vi invitiamo da subito a organizzare la nomina di una commissione elettorale per la gestione di questa fase e a fissare la data delle prossime elezioni, tenendo conto della necessità che il nuovo Consiglio Direttivo avvisi in da subito l'organizzazione della prossima edizione del Palio del Golfo. Una decisione sicuramente non presa a cuor leggero, che deriva dalle sempre più grandi difficoltà riscontrate nella organizzazione del Palio, nel colloquio con alcune amministrazioni denti, ma soprattutto dalla evidente mancanza di fiducia nei nostri confronti, si legge ancora nella nota, che si ravvisa nel comportamento e nelle esterrazioni, così come nei silenzi di molte borgate. Per occuparsi dell'organizzazione di un evento complesso come il nostro, prosegue la nota, ed essere sempre sotto processo da parte di tutti, spesso istituzioni comprese, così come per essere sempre pronti a battagliare per difendere le esigenze del nostro movimento, è fondamentale sentire il supporto delle borgate, supporto che ad oggi è venuto a mancare. Nella lettera si fa inoltre riferimento a episodi recenti che si sono verificati durante i giorni della 99esima edizione del Palio del Golfo, in particolare si legge le illazioni formulate e gli insulti ricevuti da Fezzano e Portovenere, che sono solo gli ultimi di una serie di comportamenti ed esternazioni che ci hanno convinto a malincuore a fare questo passo. La lettera conclude con un augurio di buon lavoro al nuovo consiglio direttivo e un buon centesimo Palio del Golfo a tutti.